Per gestire al meglio l'acqua, risorsa sempre più preziosa con il cambiamento climatico, occorrono grossi investimenti e soprattutto una pianificazione integrata che superi la frammentazione degli interventi. A porre l'accento sul tema è stato l'amministratore delegato del gruppo ACEA Fabrizio Palermo, intervenuto al forum della Fondazione Empaia nell'ambito del panel dedicato ad agricoltura, cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico. Credo che in questo forum si è affrontato un tema importante che è quello della pianificazione anche di quelli che possono essere gli interventi. Interventi che vanno su molteplici assi. Il primo è sicuramente quello degli investimenti, dove l'Italia è molto indietro. Investimenti che devono essere diffusi sul territorio, però coordinati in una regia unica. In questo il governo si sta muovendo e ritengo che i passi che sono stati fatti, soprattutto negli ultimi mesi, siano molto incoraggianti. In questo, come ACEA, siamo il primo operatore idrico nazionale. Vogliamo dare, stiamo dando il nostro contributo, una logica di pianificazione integrata e soprattutto una pianificazione che superi gli ambiti locali, abbia una dimensione quanto meno regionale, possibilmente nazionale. Facilitazione dei collegamenti fra infrastrutture e riutilizzo dell'acqua sono poi fondamentali per l'agricoltura, per la quale, si sa, la risorsa idrica è nevralgica. Il settore agricolo e l'acqua sono strettamente legati da sempre. In questo credo che la sfida è sempre più di, ad esempio, riutilizzare l'acqua. O meglio, ottimizzare da un lato quella che cade, perché oggi in Italia piove in misure diverse, in luoghi diversi, da un lato, per cui bisogna adeguare le infrastrutture a questo che è una sorta di cambiamento climatico e di distribuzione dell'acqua sul nostro paese. E l'altro è incrementare il riuso.